Lascia un mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Luca Salatino è stanco del GFVP e sente la mancanza della sua fidanzata Soraya. Luca Salatino, con molta probabilità lascerà il reality a breve ma prima, ha deciso di rendere indimenticabile la sua presenza con un gesto orrendo nei confronti di Oriana Marzoli. Oriana ha chiamato, per scherzo, Luca Salatino o Soraya. Dopo essersi avvicinata a Luca per cercare di fargli capire che si stava bonariamente prendendo gioco di lui, Luca ha spintonato malamente la bella venezuelana allontanandola. Non ti allargare, non ti allargare. Non mi va di litigare proprio, vedi di farti i cazzo tuoi, dai levati. Non ti avvicinare. Oh, fammi il favore, ti lo chiedo per favore, eh. Queste sono state le parole di Luca Salatino dopo essersi allontanato. Inutile dire che Oriana ci è rimasta molto male per la reazione esagerata dell'ex tronista. Personalmente spero davvero che Luca decida di lasciare il gioco. Perché con questa storia che le manca Soraya ha davvero stancato? Se le manca così tanto che se ne stia a casa. E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua opinione nei commenti. Silvio, dai, levati. Levati, non ti avvicinare. Fammi il favore, ti chiedo per favore. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella. Per noi è importante. Resta sempre aggiornato. Grazie per la visione. Grazie per la visione.